Lasciati sorprendere da Spar. Quattro linee d'arredo in una sola grande firma, a un prezzo da sogno. Spar, una casa bella e accessibile. Spar, design e qualità a prezzi accessibili per arredare i tuoi ambienti con stile. Lo Sparpoint di Avellino e Mobili 2000, in via Due Principati ad Avellino e a Prata di Principato Ultra, in via Cosimo Petrillo.